E' qua che menna fosse tutta mia Qua, qua sono peggio di Napoli, sparlano prima della mezzanotte Stanno facendo una processione Non mi muovete, non reagite, sono pirati Pirati? Speriamo solo che si accontentino della barca perché non ci prendono in nostalgia Pronto La cifra richiesta è di 15 milioni di euro E' una cifra esagerata We are not millionaires Stanno un po' di brava Lui stanno assai più morto e fammi ruolo Non vi preoccupate, non possono farci del male Gli ostaggi sono merce preziosa Non ci faranno niente Sono il senatore Ripamonti Finalmente hanno stanziato il denaro per quella ricerca Fate sapere a sentire bene Tiriamo sul pezzo, facciamoci fare uno sconto Anche perché con tutto il rispetto per i sequestrati Qui stanno a parlare di un maioneio Una sciampista e due saputelli che fanno ricerche sul pastocino e pesci E tra la parmigiana e i peperoni imbottiti Ehi, i peperoni Tra i peperoni e gli spaghetti Come si fa? Uno è un primo, l'altro è un secondo Rispondete I peperoni Oh Mazzi, vanno forti i peperoni Mozza Napoli Non devo farmi Nooo No, che no Lui no Lei Riccione